Ecco, dottor Caremani, questi contagi stanno aumentando, sono più che altro un aumento anche molto veloce, di giorno in giorno, di settimana in settimana. Lei è convinto che ci sia appunto una carica virale, diversa rispetto al passato del virus? Senza dubbio, il virus non è mai cambiato. Tutti quelli che dicevano che il virus era diventato buono, meno cattivo, mutato, sciocchezze, veramente sciocchezze scientifiche. E sentite dire dagli pseudoscienziati ancora più sciocchezze. Il virus è lo stesso, siamo d'inverno e come avevamo già detto nel passato, la carica virale è quella che determina la rapidità della trasmissione, la quantità del virus è quella che determina la rapidità, e anche la gravità, perché maggiore la carica virale, maggiore il rischio chiaramente di avere una malattia particolarmente grave. Parliamo di lockdown, dobbiamo chiudere? No, io sono contro la chiusura totale. Sono però in una condizione in cui in questo momento dobbiamo tutti, in maniera civile, sapere bene come comportarsi. E dico specialmente agli anziani, agli anziani bisogna dire, cari signori, se non avete da uscire per motivi impellenti, statevene a casa, perché chiaramente è l'unico sistema per evitare il contagio. Se non avete da andare in farmacia, da andare dal dottore, da andare a fare la spesa, è giusto che venissate a casa o fare una piccola passeggiata in posti, in ambienti dove non c'è nessuno. Ai giovani, quella cosa che gli dico, non fate assembramenti, perché sono quelli che trasportano rapidamente il virus e questo poi ve lo portate a casa e lo portate nella vostra famiglia, nei vostri genitori, nei vostri nonni. E quindi in conseguenza state in maniera sicura, che vuol dire appunto mascherina portata in maniera corretta, distanza sociale è un lato importante, i genitori delle mani. Perché sappiamo bene che il virus persiste fino a nove ore nelle superfici, ma le mani e le superfici ben lavate eliminano completamente il virus. E quindi con questa attenzione noi ce la possiamo fare. Ancora è vero che l'R con T sta superando l'1.5, che quindi chiaramente anche il tracciamento può essere difficile da farsi. Ma dobbiamo sempre tracciare e sempre sapere come comportarsi, tenere la barra dritta che è quella, prevenzione, in maniera adeguata, tracciare, testare, testare prima, tracciare dopo, per poi chiaramente trattare le persone che non hanno veramente bisogno. L'ospedale di Arezzo comincia purtroppo ad avere dei casi all'interno del suo personale. Ecco, tanti cittadini ci chiedono, ma siamo sicuri ad andare in ospedale? Noi rispondiamo di sì. Noi rispondiamo di sì, senza dubbio. Non è che questi si ammalano perché i cittadini devono andare all'ospedale solo se hanno bisogno dell'ospedale, non andare a trovare i pazienti o gli amici o i cari. Bisogna che chiaramente ci vadano per necessità personali sanitarie proprie perché allora a quel punto, e quando ce n'è bisogno, bisogna andarsi. Se c'è una colica, se c'è un'infezione importante, se c'è da fare un intervento urgente, se c'è da fare una valutazione cardiologica adeguata, l'ospedale è sempre ne pronto, perché non possiamo pensare che sia soltanto un ospedale Covid. Noi abbiamo bisogno di un ospedale misto, che sia Covid e non Covid, perché i nostri cittadini non soffrono soltanto di infezioni da coronavirus, ma soffrono anche di tante altre patologie purtroppo, quindi di conseguenza devono essere in condizione di dare una risposta adeguata sia all'uno che agli altri. E' per questo che rivolgo, come ho rivolto stamattina, una richiesta ben precisa al nostro governatore dell'Unione Toscana, al nostro sindaco, di prendersi cura di questa città in questo momento, perché abbiamo bisogno veramente di un impegno costante e continuo. Io sono di un'opinione in questo momento, lo dico con molta franchezza. Abbiamo un nuovo assessore della sanità, io penso che il nuovo assessore deve essere un assessore itinerante, cioè deve essere passare da un ospedale all'altro Covid per valutare quelle che sono le situazioni e capire quali sono i momenti di importante intervento che si deve fare a questo livello. Dico perché, valutando direttamente di persona e sentendo anche la gente, perché stiamo vivendo un momento difficile, questo non vuol dire che sia un momento che sia irreparabile, possiamo chiaramente tutti insieme porci riparo, ma abbiamo bisogno di un coordinamento costante e continuo che metta in condizione i nostri ospedali, le nostre strutture sanitari di dare le risposte migliori.